A distanza di qualche settimana questa mattina i lavoratori dell'Enaiedi sono tornati a manifestare sotto alla regione in Piazza Unione a Pescara per sollecitare risposte certe sulla riapertura dell'impianto che continua a restare chiuso nonostante le promesse di riapertura arrivate a più riprese. Ad incontrare i lavoratori anche il presidente della regione Marco Marsilio che ha ribadito come la strada del project financing sia l'unica veramente percorribile. Abbiamo di fronte una proposta che è condotta non da degli avventurieri ma da realtà che nel mondo dello sport natatorio hanno fatto la storia di Pescara che la fira la nostra finanziaria regionale che se non prendiamo sul serio neanche noi che siamo la regione Abruzzo allora poi mi chiedo a che cosa debba servire una finanziaria regionale che ha valutato come congruo e all'altezza delle aspettative, dei bisogni e quindi da questo punto di vista io penso che almeno per il mio parere personale, per quella mia esperienza che non ci sia niente di meglio che procedere e mettere a gara questo progetto come prevede la normativa sulla finanza di progetto e verificare fino in fondo la percorribilità di questo investimento che metterebbe in condizione di investire 5 milioni circa di soldi privati su un impianto pubblico e restituirlo ristrutturato, tecnologicamente avanzato, sostenibile dal punto di vista energivoro ed ambientale soprattutto a disposizione del pubblico con una prospettiva anche di gestione di lunga durata e non anno per anno. Stiamo lavorando su un affidamento provvisorio per il quale il Consiglio regionale pochi giorni fa ha stanziato dei fondi e io penso di dover andare avanti correntemente anche con l'indirizzo del Consiglio regionale a mettere a disposizione questa somma di 100 mila euro per fare un avviso che possa permettere la riapertura dell'impianto con una gestione provvisoria però con criteri diversi da quelli del vecchio bando. I sindacati e i lavoratori temono però che il protarsi della chiusura porti davvero ancora più problemi per quanto riguarda l'impianto di Viale Rivera Nord. Non abbiamo mai detto di no, il problema è capire se riusciamo in qualche modo a tirare tutti dentro questo ragionamento e condividere questa come soluzione. Noi abbiamo detto anche che se questo non è percorribile ci si sieda a un tavolo, si convocano in tutte le parti e si immagini carte alla mano qual è la possibile soluzione per dare un futuro e una prospettiva a questo impianto. Le domande sul futuro sono lecite e preoccupano non solo i lavoratori, preoccupano anche noi a questo punto. Bisogna fare in fretta, bisogna trovare una soluzione percorribile, bisogna trovare una soluzione condivisa e condivisibile da tutti e superare queste impasse che ormai da mesi non si supera. Cioè la soluzione c'è, è a portata di mano, qualcun altro ha una soluzione che c'è, è a portata di mano ma le due parti non si uniscono e non lavorano insieme per un progetto comune.